Benvenuto al Ciocotel. Io mi chiamo Valeria Guarducci e sono amministratore delegato di Apice Hotels, una piccola catena di alberghi a tema, quindi piuttosto originali. Il Ciocotel è dedicato interamente al cioccolato ed è stato il primo albergo nel 1998 ad avere questa intuizione. Perché dedicato al cioccolato? Perché la nostra famiglia aveva già avuto un'esperienza molto positiva con un altro albergo sempre in città che era dedicato al vino. Successivamente poi lo abbiamo ampliato e lo abbiamo dedicato al jazz. Sono valori aggiunti del nostro territorio e ci pregiamo di essere appunto il primo albergo al mondo dedicato al cioccolato. In questo albergo ci sono vari spazi dedicati a questo cibo degli dei e riusciamo a far fare ai nostri clienti delle esperienze molto particolari. Quindi noi puntiamo molto sulla originalità della nostra struttura e se mi seguirete vedrete di che cosa sto parlando. Ecco mi trovo qui nella hall del Ciocotel in mezzo ai due bimbi di Euro Chocolate perché noi siamo anche ufficiale hotel di Euro Chocolate. La nostra famiglia infatti spazia dalla organizzazione di eventi, il più importante dei quali è Euro Chocolate, alla gestione degli alberghi. Nelle hall dei nostri alberghi si possono fare esperienze diverse da tutti gli altri alberghi. Sono alberghi che rimangono impressi nella mente. Come all'Hotel Joe che è dedicato come dicevo al vino e al jazz. Entrando ci sono dei pianoforti e si può ascoltare musica in diretta. Qua il protagonista vero è il cioccolato e quindi iniziamo nella hall a presentare ai nostri clienti un fantastico ciocostore. È un ciocostore che soprattutto invita a degustare in una sezione specifica che è per esempio a tutta tavoletta, le tavolette degli artigiani locali e dove si può trovare questo oggetto particolare che è la ciocco in casa. È un contenitore molto simpatico che doveva essere il leitmotiv dell'edizione 2021 di Euro Chocolate che purtroppo per i noti motivi pandemici è saltata per un progetto che è molto piaciuto e che contiene all'interno i prodotti di costruttori di dolcezze. È un piccolo laboratorio nel quale si costruiscono oggetti di fan chocolate, quindi cioccolata sì ma per esempio c'è un grattacioc, una ciocopirina, una cazzuola di cioccolato e molte altre cose molto spiritose. Qui siamo sempre nella hall del ciocotella all'ingresso del ciocostore e qui vedete c'è una vasca piena di cioccolato vero per far fare ai nostri clienti un'esperienza particolarmente luxury. Infatti nella nostra camera che è la ciocco sweet sweet noi possiamo allestire questa vasca da bagno con il cioccolato fuso e il cliente può immergersi in questo particolare fluido. Qui ci troviamo nella sala colazione, la ciocco sala colazione e come vedete all'ingresso c'è questo specchio delle mie brame, chi è il più goloso del reame? È un posto in cui molti turisti si fanno foto, molti turisti internazionali, questo albergo attira molti turisti internazionali e soprattutto europei e moltissimi anche francesi e quindi invitiamo i clienti a raggiungerci nel periodo estivo più numerosi che mai perché dopo questo periodo di chiusura noi li aspettiamo con il sorriso e con tante golosse novità. Dal ciocotel a questa factory creativa dove anche sede Ero Chocolate quindi con i suoi uffici, con i suoi laboratori di produzione, con i suoi spazi per la formazione e qui ci troviamo in questo corridoio animato da questi quadri realizzati da grandi artisti dell'amore italiana che hanno dedicato al tema del circo, dello spettacolo coniugandolo a quello del cioccolato. Ero Chocolate è una storia lunga, parte nel 1994 trasformando Perugia ogni anno a ottobre in una grande cioccolateria all'aperto. Nel corso degli anni ci sono state milioni le persone che hanno raggiunto questa dolce città per scoprire il gusto del cioccolato, la storia, le origini, la cultura del cacao e quindi anche conoscere le produzioni locali. Una storia che continua anche quest'anno con una grande sorpresa, con un format nuovo perché si allatteremo ovviamente a quelle che sono i condizionamenti dell'era ancora pandemica, ma che non toglierà appunto il gusto di assaggiare qui in Umbria una buona tazza di cioccolato. Una delle molteplici attività che facciamo in questo centro è anche quella che riguarda la creazione del cioccolato e delle tavolette di cioccolato. Questo qui è il laboratorio dove produciamo i nostri prodotti e offriamo anche al turista la possibilità di avere delle esperienze a tema cioccolato che possono essere fatte anche in lingua. Su prenotazione si può appunto fare dei corsi per turisti all'interno di questo laboratorio. Così come in Francia c'è una grandissima cultura del cioccolato, anche Perugia può offrire una grande storicità per quanto riguarda questo magnifico ingrediente. Invitiamo quindi i nostri amici francesi a venire a scoprire quali sono le diversità fra il loro e il nostro cioccolato. Vi aspettiamo!